Il rafting diventa protagonista nel fiume Arno, partendo dal territorio retino per raggiungere quello di Capolona. Due le iniziative che hanno coinvolto questo tratto di fiume, la prima è il testo ufficiale per aprire a Rafting Capolona, l'altro quello della settimana della Bonifica, in entrambi i casi l'associazione è stata la T-Rafting, impegnata in gommone sul fiume sia con il comune di Capolona sia con il consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. È stato veramente emozionante, ci sono delle rapide, è una visione completamente diversa del territorio vista dall'Arno. L'idea sarebbe quello di avere una sede in pianta stabile di Rafting qui nella parte di Castelluccio, quindi attraverso anche il ringraziamento va fatto anche la prologo di Castelluccio, grazie anche per la disponibilità che hanno dato e la collaborazione, e quindi questo tratto prevederebbe la partenza da Buta fino ad arrivare qui a Castelluccio. L'altra idea è quella di organizzare durante l'estate degli eventi. È una zona molto bella dal punto di vista naturale e purtroppo tanti abitanti anche di queste zone non conoscono il fiume come ambiente. La stessa zona dell'Arno, ma anche con l'inserimento di Ponte Buriano, è stata protagonista nella settimana della Bonifica con il consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, sempre con la T-Rafting impegnata per ripulire il fiume in quel tratto, raccogliendo in comuni materiali abbandonati nel fiume o trascinati dalla corrente, che da terra sarebbero irraggiungibili. La settimana della Bonifica è un evento in collaborazione con le istituzioni nazionali. Questo proprio da valorare l'importanza di una corretta cultura dell'acqua, una cultura dei fiumi per il nostro benessere, per la nostra sicurezza idraulica.